Un tavolo tecnico urgente per la definizione dei tempi e delle modalità di avvio dei lavori lungo la statale 337. E' questo l'oggetto di un ordine del giorno che verrà discusso settimana prossima in Consiglio Comunale a Re. A proporlo il primo cittadino, preoccupato per lo stato dell'arte del progetto di messa in sicurezza della statale Vigezzina e che, nello specifico, andrà ad interessare il tratto compreso tra Re e il confine di Ribellasca. Ci troviamo ormai da troppo tempo in una situazione di immobilismo che ci preoccupa e non poco, denuncia Oreste Pastore. Il sindaco, nel richiamare le rassicurazioni tenute da parte di ANAS e Regione Piemonte in merito all'esecuzione dei lavori, precisa. I progetti sono stati presentati diversi mesi fa nel corso di una riunione organizzata presso la sede dell'Unione Montana della Valle Vigezzo. A tutt'oggi però risulta che non sono state ancora avviate le procedure per le richieste di autorizzazione previste per le opere. Da qui la decisione di prendere di petto la situazione. Vogliamo conoscere i tempi e i modi di partenza degli interventi, perché non mancheranno i disagi in primis per i frontalieri con la chiusura della strada, spiega Pastore. Già perché per dar corso ai lavori, del costo complessivo di 70 milioni di euro che prevedono l'allargamento della sede stradale e la costruzione di due ponti e due gallerie, sarà necessario chiudere l'arteria. Si ipotizza prima per due mesi, poi per sei. Una soluzione che preoccupa i tanti usulani che quotidianamente si recano anche in Ticino per lavoro. Per loro l'alternativa durante questi periodi di stop rimarrebbe, tolta dalla ferrovia della Vigezzina, solo la strada della Valle Canobina e la strada di 34 del Lago Maggiore, il che comporta un allungamento non indifferente dei tempi necessari per raggiungere il posto di lavoro o tre confine. Con l'ordine del giorno, in discussione mercoledì 8 febbraio, il Consiglio Comunale di Re darà mandato al Sindaco di convocare un tavolo tecnico urgente per affrontare la delicata questione e a cui sono chiamati a partecipare i rappresentanti dell'ANAS regionale, il Presidente e il Vice Presidente della Regione Piemonte, i rappresentanti dell'Unione Montana a Vallavalle Vigezzo e i sindaci valigiani, nonché i rappresentanti dei frontalieri.